Nonostante le proteste e le accuse, Brad Kavanaugh diventerà giudice della Corte Suprema americana. Il presidente Donald Trump incassa una grossa vittoria, un mese esatto dalle elezioni di midterm, facendo nominare dal Senato il secondo conservatore di fila alla massima istanza giudiziaria statunitense, che così si sposta definitivamente verso destra. Tutti i senatori repubblicani, tranne una, infatti, hanno annunciato il loro supporto al 53enne Kavanaugh. Il voto odierno metterà fine a un processo di conferma caotico, segnato dalle accuse di aggressione sessuale nei confronti di Kavanaugh, lanciate da più donne e portate direttamente in Senato dalla drammatica testimonianza della professoressa Christine Blasey Ford. Il rapporto dell'FBI, richiesto dopo la comparsa in diretta a TV di Ford, non è stato reso pubblico, ma secondo i senatori repubblicani che l'hanno visionato non ha aggiunto nuovi elementi. Diversi senatori democratici, invece, affermano che il rapporto è volutamente superficiale e non smentisce affatto che Kavanaugh abbia mentito sotto giuramento. Il paese è spaccato, moltissimi opinionisti e l'ordine degli avvocati chiedevano che Kavanaugh si ritirasse. Fuori dal Senato si è manifestato per giorni. Le attiviste del MeToo protestano contro quella che appare come la vittoria dell'establishment privilegiato degli uomini e un atto di prepotenza di un presidente senza scrupoli. Le elezioni di midterm, fra un mese, diranno se la scommessa di Trump ha pagato o se i repubblicani perderanno il controllo del Senato.